Il mondo gira ancora e lo slogan che accompagna l'iniziativa legata alla tappa lancenese del Giro d'Italia. Martedì 13 ottobre, in occasione della partenza della Carovana Rosa dalla città di Lanciano, il Comune omaggerà i vincitori della tappa San Salvo Roccaraso con quattro gioielli progettati e realizzati dalle sorelle Deborah e Tiziana Cerrone, stiliste gioielliere. La creazione e l'intero progetto sono stati presentati questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la stilista Deborah Cerrone, l'art director Luca Di Francescantone, il sindaco di Lanciano Pupillo, l'assessore allo sport Davide Caporale e il ciclista paralimpico Fabio Serraiocco. Il gioiello che porta il nome di Evol è un ciondolo a forma di ruota stilizzata, simbolo di continuità, ripartenza e speranza, quella di affrontare la vita e di rinascere soprattutto dopo gli eventi legati alla pandemia. Ma non solo, la volontà artistica nasce da un'interpretazione più ampia dell'attualità, tematiche politiche, economiche e ambientali si fondono e si ispirano alla visione di un futuro migliore, la ruota e lo strumento attraverso il quale si arriva inevitabilmente altrove. La nuova meta da raggiungere, che implica un minimo sforzo fisico e quindi un coinvolgimento del singolo, è un luogo aspaziale e attemporale, un concetto, uno stile di vita. La ruota diventa quindi amuleto nella costruzione di un nuovo domani, una sorta di anno zero, come ha spiegato la stilista nella descrizione del gioiello.